Ok, dovrei esserci di nuovo Sì? Non capisco perché Sono tornata in tempo Non capisco perché C'è qualcosa che mi Che mi sta Urtando la CPU Ma non capisco che cos'è Non lo so Non lo so Ai donno Non lo so Non lo so Oh, se lagga anche qua c'è un problema serio però Non dovrebbe Però mi inizio a preoccupare Non lo so Ok, non ve l'ho più lasciato Ok Vi dico soltanto che mi si è Se ne è andato anche il mio sfondo nel desktop Quindi non capisco che cosa è successo Ma va bene Ok A sto punto riavvio il pc Ci metterei 8 anni e mezzo per riavviare il pc Infatti ci metto 8 anni e mezzo Ma Davvero mi dà molto molto fastidio Quando la live viene spezzata in due E' ancora tutto collegato, sì Almeno quello, almeno quello Almeno qualcosa funziona Ma il pc oggi proprio non vuole Io voglio far vedere le mie statistiche di chi che cosa stanno, cosa non stanno facendo Perché vedo tutti i colori Dal rosso al viola, blu, verde Tutti i colori Non so cosa sta succedendo Oddio mi sono avvitato a girare la telecamera adesso Allora comunque Andiamo avanti Dove non si sa Abbiamo preso 3 giochi diversi Vediamo se uno funziona Almeno ho testato che molte cose ancora non funzionano sul mio pc E la prossima settimana Intenzione seriamente di andermi a prendere questa nuova ramba Perché così non si può continuare Il prudio è utilizzato per batteri e soluzioni diluita Composta da acqua e acido solforico Entrambi devono avere un alto livello di purezza Oddio santo Me lo devo ricordare queste cose Credo, immagino che io mi debba ricordare queste bellissime cose qui Io per te posso andare per la nuova bai Ok va bene Luca, grazie mille per aver tenuto compagnia Ci vediamo presto Per ora infatti sembra andare bene Non vorrei dire niente Anche se Ah no, anche se questo è stato un problema mio Perché ho provato a mettere un po' una risoluzione leggermente poco bassa al mio modello Ma a questo punto posso rimetterlo in G-Sync Oh che bello, mago Postalo su disco Assicurati che la soluzione diluita all'acido solforico abbia un livello di purezza sospiciente E va bene Allora Oddio forse è un po' troppo lente le ho messe Non si ora Questo è davvero molto lento Perfetto, va bene così È la bella della diretta, va bene Purì perché sono in Roma Giusto quello che ci serviva, immagino Ok, è davanti ci mettere anche tu Ok, schifo Ok Allora Dai Ok Stop Fatta Si funziona, funziona tutto Giuro Funziona, funziona tutto Sono lenti non perché sta laggando ma perché l'avevo messo io lento Quindi per quello è stata colpa mia Perfetto sono mesi troppo lenti questa volta Perché non riesco mai a regolarmi sulla situazione? Sto solo schiacciando le sanguisime maledette adesso E' quasi soddisfacente sentirle fare Il milk Ecco E' Nino E' Nino che arriva con drink Che si drinka tutto quanto E poi si ruba anche il bicchiere Si drinka e poi si ruba Let's go Ce la faremo questa sera? Oh no, sento roba Tiè, fammi vedere almeno Ah No Ah Ma che perché? Va bene Allora Il pendolo di controllo del sistema di trasporto Va bene La scatamadre è assente Anzi la scatamadre del sistema di trasporto non può ricevere corrente Quindi Quindi andiamo a cercare qualcosa Quanto vorrevo essermi portato in lancio a fiamme qui E' stato molto divertente Non volevo entrare nella porta I didn't want to Ah vabbè, quindi avevo fatto il giro Quindi niente Allora non serve a niente Andiamo su? Non è vero Sceniamo a te Allora 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 Sono abbastanza silenzioso Ho paura delle cazze Cos'è? Un dito enorme Loro l'ho guardato ogni po' Dio Ma che è? E' lui No way Ok E' tornato Ma quindi non l'ho ucciso E' solo caduto in acqua Che non era caduto in acqua Oh no Amora siamo in due Dove stai sparando? Oh Auci 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 No Che siamo incastrati qua Spara Spara finché puoi Ho fatto un quadro con un salto mortale Va bene E' morto E' morto E' morto E' morto Come? Andiamo per morire Stiamo per morire tutti Come sei tu? Maco no Che so per morire Lui sta completamente bene E sta molto bene Quella cosa Posso esaminare il suo cadaveri? No E mo ci resti morto però per favore Perché l'altra volta non mi si è sembrato tanto vivo Au Jump here Yes Non so cosa serva Adesso lo andiamo a controllare Oh Immagino che non posso andare qui sotto Giusto Giusto Ah ok dobbiamo far salire questa roba qui Easy pisi Easy pisi Ok dobbiamo far salire Ok dobbiamo far salire Ok dobbiamo far salire Senti, una musica Quanto brutta io qui sopra Perché? Perché c'è la musica di tensione? Che cosa mi devo Aspettare? È una scheda madre Adesso non può portare con te Questo oggetto, grazie È una scheda madre comunque, sì Porta tu, friend Non può portare con il soggetto Non abbiamo tasche Evidentemente Non abbiamo più mani Posso abbandonarla questa cosa qui? Scusami perché ho 37 pistole? Gimme 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 Che ansia Andiamo Non c'è più È sparito il corpo Non è una cosa buona Ah ma io ci può diventare Qua te Ah Perché? Run Perché i sound alert sono ancora così alti Io non capisco il perché Se li ho abbassati 30 volte L'ho abbassati Ah ma io prima non l'ho bevuto Mi spiace Non ho scattato il baby Dov'è coso? Perché scemo Non è salito con me Oh mio dio Cioè dovevi Ah Devo spingere sull'ascensore Beh Non imparerò mai i tasti Anche a fine gioco Sarò ancora così Come non ho bisogno Un momento Scusami È una scheda madre Mi hai appena detto che serve Ah C'è un pacco per noi Entriamo Potrebbe riuscire a entrarci dentro No vabbè Sì E ovviamente dovremmo ridividerci un'altra volta Io c'ho poche munizioni con lei adesso Sto ridendo per Nino Io sto ridendo tantissimo per Nino Non c'è più bisogno di usarla Non succede niente Sembra essere per uso Ci sono delle munizioni in giro Prego Please Pretty please No Non mi fare a entrare in posti dove ci sono mostri Per favore Cioè non ne ho bisogno ora L'ho appena detto Adesso resta lì dentro quello Resta lì fino a quando non trovo munizioni Non posso scendere? Sono danneggiata Detro un altro passaggio verso il basso C'è una leva per azionare lo sblocco della diga Azionare la leva Siamo qui apposta Io cosa tu appuntare E Nino sa Oh come sono ora? Meglio? Posso tornare indietro? No Easy no Non puoi Eh Necce a te Ok 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 Stanno creando tanti piccoli cosi Schifi Mostra uno strano grafico Ok Cos'è quella? Ah qua è industriale Vendila Mai vista Metterlo nell'apparecchio Perchè no? Ah Acido sulforico? Ma poi quante cose posso creare? Scusami E cosa ci faccio con l'acido sulforico? La porta adesso è aperta Quindi è un shortcut Ci siamo Non scoprirei dove si finire in tribunale Nino Oh mio dio no Guarda qui dove siamo No way No way Guarda qui dove siamo Non mi ricordo Questo pezzo Ora Ai 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 E mo? Il mio cervello non si ricorda Che facciamo? Sono tornate tutte le Le sanguissughe schife qui Fa piacere Vai Sto facendo l'uva Sto facendo Non serve un disegno di Nino Per ottenere il suo perdono Ah no Qui già ci eravamo andati E va là che non mi ricordo comunque Che è caduto Sto cercando di capire Se posso tornare da lui Se posso tornare da lui O meno Dov'è? L'ho visto dallo specchio Qui giù Voglio capire se posso tornare indietro da lui In qualche modo No ok Ok grazie mille Ci vediamo presto Spero A dopo Forse Grazie mille Per la compagnia Oh schif Schif Se volendo per di qua Infatti Io dove tornavo Forse mi riviene in mente Qualcosa alla memoria Ah qui ok Aspetta 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 Cioè sì Ma non mi ricordo L'esterno Di questa parte Vabbè Abbastanza Chill Il tipo Ma da che ora vivo? Non ti avvicinare Schifo Fine Fine Perché io non mi sto ricordando C'è qualche problema Ah però siamo anche abbastanza vicini Scusami Non capisco Come on Come on Roger stiamo che è stato il ponte si può fare Ma c'è quella scala che porta da qualche parte per caso Saliscono Sicuramente porterà da qualche parte ma abbiamo altro da fare adesso Anzi Abbiamo fatto passi avanti quindi perché no Go Questa quanto manca la fine del gioco Oh schifo ancora Ma perché si jumpscare di schifo mamma mia Guarda Possiamo andare Ah sì che ho preso anche lei per favore Sennò devo riscendere Ok perfetto Ok ci siamo Eccolo il ponte Ehi Asserane Mamma mia Che abbiamo qui Take everything No No non caricare ora Ok Mamma mia E' chiusa Con che cosa C'è la torre di scheda magnetica Eh Non abbiamo una scheda magnetica Ma abbiamo questo Abbiamo dell'acqua industriale Non abbiamo una scheda magnetica E quindi Ah c'è una porta La porta adesso è aperta Quindi adesso c'è un'altra Un'altra scorzatoia Si va Oh mio dio E' stata frantumata Impossibile sapere cosa contenesse Che dei cugini O i fratelli di questi qui vicini Spesso di insetto Che schifo Che cosa Terribile Guarda Sai quella cosa là sopra Scusami C'è qualcosa in cima Lo scaffale Aiutare Rebecca a salire Siamo qui apposta Vai Rebecca Ma non abbiamo spazio Eh punto Niente Quindi riscendi Eh niente Dimmi Rebecca E non so cosa Abbandono questo Lo ritrovo per terra Per caso Sì lo ritrovo Per fatto Anche se sono Rebecca Dice aiutare Rebecca a salire Take the battery Vuota Che cosa è che è successo? Oh no Vabbè ne abbiamo già sconfitti no? Ne abbiamo già sconfitti loro Non possono essere Diversi Non lo erano Non erano letteralmente diversi Da quello che già sapevamo Che fossero C'era qualcosa scritto Su un foglio Della batteria Per ricaricarla Però adesso non mi ricordo Pesce slow motion Sul liquido per batteria Ok Una soluzione diluita Composta da acqua e acido solfo Abbiamo tutto Acqua combina con acido solfo Questo combina con Liquido per batteria Combina con questo E abbiamo una batteria Ad alto potenziale Non so dove mettere Sì io non so cosa siano queste unghie da Cicamala Ma l'ho letto anche prima Ma come Vorrei riprendere Ok Ok Ah siamo di no Ah ma siamo di no qui Ok aspetto E la batteria dove serviva Dove serviva Che non mi ricordo Di indietro sicuramente Una batteria Oddio mi ricordo Che serviva una batteria Da qualche parte Puro Non mi ricordo dove Oh Ok Ah qui Eccolo qua Usiamola Come non è bisogno Il momento Scusami Serve una batteria qui L'hai appena detto Ok La pizza che ti devi mettere per bene Perché se no non lo accetta Carro allevatore Sembra pronto ad essere utilizzato Premi il pulsante del carro allevatore No Aspetta un attimo Sali Guarda la tessera Guarda la tessera Che sta lì Premi il pulsante Yes Ok andiamo Vai vieni o no Scendi Andiamo su Volevo rifare tutto il giro Beh è seriamente una cosa infernale da fare È un avanti e indietro continuo Non ci si è spawnata roba in qualche modo Ah no Aspetta Aspetta Non l'avevo già fatto questo È qui allora Ma come fa a ricordarsi Tutte ste robe Non sono l'indikins Ciao Buonasera Bentornato in chat Ti vedo Come va Stiamo un po' chillando tra i zombie Chillando per esempio c'è il fatto che loro chillano e noi chilliamo con loro È reciproco Ce l'hai usala E buttiamola via Chissà perché poi me lo chiedi di buttarla via Sicuramente mi sta qualche oggetto che non so Che magari Non che ti serve ma che ti sblocca Perché cerci Menta alla fine Sono davvero molto sospettosa di questa Di questo percorso così Ecco Non mi piacciono le cazzine Così non mi piacciono Non mi piacciono Per uccidere adesso Perché sennò qui Moriamo Più di anni No You can't be What's going on Ten years ago Ten years ago L'or Ha uccidere adesso Ma donna Va bene Che brutta fine così è Ma era ancora vivo quando non l'ho buttato in acqua Eww No, brutta, brutta cosa stai E' ringiovanito molto bene comunque Oddio, che effetti corolliderali brutti però Ehh Cheiii, no No Che cosa ho mai detto No, ritiro ciò che ho detto No, 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 così no Così mi fai solo che schifo Anzi che paura mi fai solo che schifo No Ah No, lo sto mangiando Ma quante munizioni hai? Tre? Eh, va bene Eh, lo sapevo io Calcialo via Calcialo via Aia Non ho più munizioni Meno male Non so cosa sia, prendi tutto E' stato, credo, botta di culissimo Di fortunissima Siamo morendo tutti Perfetto Sta più morendo lui che io Ah No Stiamo morendo entrambi Va bene Usa Facciamo uno Scambia Ok Non ha munizioni però Non ha comunque munizioni Non è morto Sono 100% sicura che non sia morto Dove stiamo andando Va bene Sì Ho notato che la porta è chiuda Va? Ah Uno 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 all'altro Dove... Ok 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 Chiami in mano Utilizza Ah Utilizza le chiami Ok Doveva essere un archivment Questa cosa qui Sì Quindi Innanzitutto Tutto ciò che serve Per favore Levati Grazie planet Sai Non Totto Il Movimento Questa è Questa è Non c'è A che cosa mi stai preparando Il gioco Mi sta preparando A qualcosa di molto brutto Io lo sono abbastanza sicura Guarda quanta roba Non è vero Dai usiamo un altro Tanto Ne abbiamo davvero Una quintalata e mezzo Di questi salvataggi Ma quanta le volte che ho salvato Oppure dove mi trovo Ah no le quanta le volte che ho salvato Questa foto 45 volte Chissà Sali Potresti servirtene per fuggire Eh sì Perché è stato così specifico Non mi piace questa situazione Non mi piace per niente Sembra che non era morto Cosa? No Non può passare vero? Non può passare Benissimo Non può passare No perché ci sono C'è il tempo E che c'è il tempo Ah io Cosa devo fare? What I have to do Le scale Devo fare qualcosa Con queste cose qua Ma Non so cosa Non so cosa devo fare No che ansia così Che ansia Che ansia Che ansia Che ansia Mi Dove sta andando Dove sta andando Mi Vai via Perché ci sono tutte quante queste cose qui? Cosa devo attivare per prima? No vattene Ok grazie Sado gentilmente passare Scusami Si può ammazzare questo mostro? Aia Ok Credo che debba capire effettivamente che cosa devo fare prima di perduto Non capisco La luce Un vampiro La luce brucia E ora ci fa Oh mio dio Ok Oh Cosa Ho Quindi Estrarre su me sta Vorrei aprire il porto nel caso delle mercanti e seguire le istruzioni qui sotto Sbloccare la misura No No Sud ovest nord ovest Sud ovest Ovest No No Devo scrivere Ok Sud ovest nord ovest Dove caspita è il sud ovest? Scusami Io non so quale è l'ovest nemmeno Sud ovest Sud ovest Sud ovest Quindi in basso A sinistra Dove sei a sinistra? Ok Dove è l'ovest? È a sinistra Mamma mia Quindi basso a sinistra Alto sinistra Ce la possiamo fare Devo curarli Ecco perché mi hanno dato tutte queste cose Non dovevi estrarlo Distrai Non ho più munizioni Bene Come faccio a distraerla? Sì Ma questa ce la con lei Sì Nessuno dei due Ha più munizioni? Oh no Io come faccio? Eh C'è un problema? What can I do? What can I do? What can I do? Oh E niente Devo far morire qualcuno Perché sennò Non ci riuscirò mai Credo Abbiamo spiegato Letteralmente Tutte quante le Le munizioni Prima Ok Allora Proviamo Riproviamo Resident Evil Zero È che siamo Mi sento Mi lo sento Questa è la fine Forse Guarda come non lo è Lei sopravvivere Per poter raccontare Questo incubo Va bene? Allora Dato che poi Lei sarà sola Eh Questa ne abbiamo Poche di munizioni Però Lui non ne ha Per niente No Che mi sta Significare Scusami Che lui non ha Munizioni Quelle sono munizioni Del fucile A pompa Quindi non posso No Cosa dovrei fare? Un 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 Potrei Ma non so come si usano Ah e poi questo comunque Dove bisognava utilizzare Lancia granate Sono gonfosa Non so mica se ce la posso fare con lui così È un suicidio Credo che lei Già abbia finito i colpi Ok Adesso io vado a prendere lui Vediamo se sono le stesse Sì dovrebbero essere le stesse Quindi era Ah vabbè ma per tanto lo fa lei Lì dove soltanto Sono qua scemo Ah cosa avevo Ok uno Dove soltanto resistere Non ha più munizioni Non ha più munizioni Fermati Fermati No quanto è difficile sta cosa È impossibile farla È davvero Posso essere di un calcio Qualcosa di simile Non c'ho un Concusa di melee E dai E dai Fammi passare Almeno Non so cosa fare Non so nemmeno Non so nemmeno che cosa posso prendere Perché non so se ci sono munizioni in giro Ce l'ha fatta? Ok devo continuare a guarirla forse Proviamo Non sta tanto bene Però la scena ancora due Vediamo quanto può resistere Ops Terrà di resistere più di tanto Non so nemmeno se Non ce la fa uscire da lì Ma dai Non ce la fa uscire da lì Non è vera questa cosa qui Dai non è possibile Allora Resident Evil Zero Ma la devo studiare benissimo Perché dovrebbe essere Allora Lui non Lo faccio attaccare Allora Anzi Facciamo così Ok Ok Sto pensando Le sto pensando tutte Così Io adesso uso lui Lei ha pochi colpi Io non sparo Lascio sparare a lei Così sprega i suoi di colpi Adesso Dobbiamo vedere Proviamo Ha davvero zero colpi Vai spara Vai vai Spara 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 Sto sperando Spara 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 Che già sta morendo Spara 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 Oh 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 Oh! Sarei! Oh, migmaldivistoso! Eh, va bene! Quanti colpi mi sono rimasti? 11 colpi. Quanti colpi. Vieni qui Ok Guardare me Guardare me No, finito di nuovo le munizioni No, è impossibile fare questa cosa senza munizioni però Eh, arriverò a buttarli No, finito di nuovo No, finito di nuovo Potevano farmelo fare a me questa cosa del girare le manopole Non è vero È impossibile questa cosa Ok Mi sembra pure un portello di munizioni Che non so dove devo Dopo posso prendere No, finito di nuovo No, finito di nuovo Tra voi suis Getting L'unico è provare a tornare indietro e vedere se C'è qualcosa che Possiamo usare dall'altra parte Anche se non so perché ne dubito fortemente Quale munizioni del fucile e pompo? Quante ce ne sono? Ma il fucile e la pompa le prendemmo... Cioè lo perdemmo più che altro sul treno Quindi è impossibile andarlo a riprendere Ora che ci penso nemmeno più nella villa Mi fa tornare, perché questi sono qui? Ecco, spieghiamo altre munizioni No, non possiamo nemmeno più... Ah no sì, ci possiamo tornare indietro, perché... Se lui è arrivato da qui... Ma queste bombe C'è il lanciagranate, sì Ma come si usa? Vedi, è un oggetto inutilizzabile da solo Perché mi serve il lanciagranate? Il lanciagranate mi sa che stava... Dove stava il lanciagranate? Della villa L'ho lasciato tutto indietro Tutto C'era il coso, no? La ripoltella? Come si chiamava? Cioè la manium Ma ho visto letteralmente due... Pure Il gioco lo sa Il gioco sa che stiamo tornando indietro per andare a cercare le munizioni È incredibile Allora, probabilmente questo è il posto finale Ma non riusciremo a finirlo per questa sera Perché devo andare a cercare munizioni Non c'è... Altra soluzione Nel caso se non riesco a trovarle qualcosa adesso Perché sicuramente non ce li esco Dato che ne ho già persi un bel po' Facendo queste cose qui Provo a cercarli da me E vedere che succede A me ci sono... Ah, aspetta Pottiglia vuota, no? Credo fossero tipo molotov Non c'è... Lì c'è un posto che non abbiamo esplorato dall'altro Ah no, questi... Ah no No, scusami, più scendiamo Qu'è posto io, stupi? Qu'è posto io, stupi? Io prendo tutto, potrebbe servire tutto Qu'è posto? Qu'è posto io? Oh Ah, già Cosa ho sentito? Ci sono un po' di cure qui Cosa ho sentito? Cosa ho sentito? Credo di starmi perdendo tantissimo Allora c'è un modo per tornare nella villa Ok Qui avevamo il lanciagranate Dove stava però? Allora Allora guarda qui Ecco il fusile a pompa È raggiù Giù dove? Aiuto Dove ricordo? Giù dove? Lì su C'è scritto giù Ok Ok proviamo Aspetta Fammi salvare un attimo Salvo in un altro slot Per vedere cosa succede Per vedere cosa succede Sì ma Qui Ok Andiamo Non era questo giù Questo tipo di giù Perché giù Qui si va da un'altra parte Non si va giù Dove dico io Effettivamente giù dove siamo arrivati noi Noi siamo arrivati da una botola Oddio È la botola dove Da dove Dove siamo Da dove siamo comparsi adesso Praticamente però A meno che non c'era un'altra strada Ah no Era quella strada Aspetta Sono un scema io Ok Eccolo Tu Billy Prendilo Ha bisogno di due spazi L'esplosione Ancora Io non so se il rampino ci serve ancora Prendilo Ah4 A AGっていう Ma A A A Mal iniziamo a prendere le emulsioni della pistola del fuggito a pompa che sono tantissime una però ok in giro almeno sono davvero tante era lei che stava male sì poteva prendere qualcosa altro lui ah no perché l'ha messo dentro è difficile il mio cervello aiuto il mio cervello non ragiona quasi più ormai eh no pure se fosse ci sarebbe lanciagranate quindi dobbiamo comunque riandare fuori ci vorrà un po' di tempo ragazzi ok mi sa che questa cosa con me la faccio da me e la faccio per conto mio e poi se l'ultima volta ci rivediamo direttamente al post finale o almeno già tutto quanto pronto l'ha fatto è un po' di tempo poi sono andato a controllare dov'è il lanciagranate allora non è qui eccolo qui e guarda quante munizioni qui ci sono questa è la munizione della Magnum guarda per il lanciagranate quante ce ne sono eh ok secondo piano porta più là quindi questa qui sì paura le teste mi hanno fatto venire un mezzo infarto questo sicuramente occupa due devo sistemare le cose allora questo lo abbandono e il fucile a pompa glielo do a lei equipaggiato tra l'altro tra l'altro anzi no lascio stare equipaggio un attimo apriamo questa qui e poi vediamo i salvataggi per ora li posso lasciare anche a lei tutto ho visto tutto scambialo tutto scambialo oh ok così lui è vuoto adesso lui gli faccio prendere questa sì a lei le può prendere questi non può prendere perché 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 i cosi sono così piccoli perché l'inventare è così microscopico l'inventare è così Ok Oddio guarda dove sta questa qui Dall'altra parte della stanza Questa è completamente dall'altra parte Allora usciti dalla stanza Ok non dovrebbe essere difficile Ah oddio mi era un quarto Tra poco dobbiamo staccare Questa roba qui me la faccio per conto mio Poi ci rivediamo lì Allora usciti dalla stanza Allora usciti dalla stanza Il pezzo divertente sarà tornare Completamente indietro No Fatma sei scemo Non ti azzardare vai più Allora lo metto un attimo Su inattivo Adesso me lo devo ricordare Però sarà inattivo Però non mi ricordo Ah ok La porta è grossa Ecco le da giù Faccio una scorta di queste E di munizioni per il fuscile Non era di qua Era dall'altra parte Oh non iniziamo a perderci No non è vero Era di là Albo Non togliere tutte le giusto Sì Ok nel terzo Ok Allora Per me Per quanto riguarda il momento Che ci riuscirò a farci Io vi ringrazio tantissimo Per essere rimasti con me Fino a questo mondo E Non Vi auguro Un buon weekend Una buona serata Noi ci rivediamo lunedì sera E Ci rivediamo davanti al boss Perché questo pezzo Sarà davvero molto molto noioso Da fare Ok ragazzo Buonasera a tutti Ci vediamo presto Ciao ciao E mo Help Non so che fare Aspettate Cosa possiamo fare Cosa possiamo fare Possiamo continuare A finire Probabilmente Resident Evil A questo punto Mica diceva che durerai Un'ora e mezza Hai ragionissimo Anche tu Però non me lo aspettavo così Guardo Non me lo aspettavo Allora A dove sta Oh Non ho mai giocato Con i tanti giochi In vita mia Con In live Where Where Allora andiamo a finire Resident Evil Vi faccio vedere Cosa ho preso Tra l'altro Mi sono persa Steam Ok Però non c'è Il numero uno Quindi se lo Se lo finiamo Ci sarà Un altro problema Perché poi Non so Che cosa fare Ok Dove sta Dove mi sono persa La freccia Arrivo Ok Hei Si sente Perfetto Aiuto Mi è cresciata Però in un modo molto In un botto creepy In un modo Un botto creepy Eh Proprio Il gioco Delle backrooms Vedi 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 Non si sa mai Non si sa mai Zero Zero Allora Faccio vedere La robina Che ho preso Per configgere Quel coso Spero possa funzionare Ok Allora Lei Gli ho preso Il fucile a pompa Gigantesco Che c'erano Un Un bordello Di Di munizioni In giro Poi a lui Io santo Dopo Otto ore Il gioco Ancora non ho capito A lui Gli ho preso Questo Il lanciagranate Voglio vedere Se il lanciagranate Può risolvere Questo piccolissimo Problemo Di Di Incomprensione Tra mostri Lei c'ha Fucile a pompa E Pistola normale Anche se Lei ha fucile a pompa Può Prendersi un po' Di roba Io Devo comunque Poi sparare A quel tizio Quindi Vediamo un po' Devo scambiare Per per forza Un po' Di cose Ok A lui Gli equipaggio Un attimo Questa Dovrebbe essere Safe Così Forse Lo spero Risolviamo Un'altra volta Ho salvato Ottanta volte Dall'ultima volta Che Dall'ultima volta Che ci ha giocato Mi stava lasciando Tutto bianco e nero Velocissimo Appena sembrava Riprendersi Mi faceva Oh mio Dio È una cosa Terrificante Perché mai Che cosa bruttissima Hey Let's go It's the queen It's the queen Oh mio Dio Oh mio Dio Ma lei che sta facendo? Ah, sta giocando a scacchini. Fai anche lo scato, non so se è possibile saperlo. Ah! E' ancora un bordello di colpi per questo bellissimo personaggio adesso. E' il mio testo. L'ho... L'ho... L'ho riadattato. E' molto più piacevole. No, non è vero. Ah vabbè, ma questo tanto posso pensare io per quanto distrarre lo scemo. L'ho riadattato. L'ho riadattato. E vabbè. Scemo? Scemo no! Calla. Eh... A per te. No. Scemo no! Non posso... Aspetta! Se la sta facendo la signorina? Ok, l'ho fatta. Ok, l'ho fatta. Scemo no! Scemo no! Non ce la fa mica a cuore questa. Non ce la fa mica. Non ce la faccio. Non ce la faccio. È lo attimo. È lo attimo. È il proprio attimo. Ah, e ho... E dai? Ah! Oh! Oh! Un'erroga? non devo andare nella box a vedere se c'è qualcosa è pure buio ma sono solo a casa gioco che mi mette ansia a fare qualsiasi cosa assolutamente no Luca mi dispiace tantissimo per la tua ansia non volevo metterti così tanta ansia ma visto non c'era nessun assolutamente nulla nemmeno puoi essere safe forse opera ce l'ho un pochino con te ecco si era un po' arrabbiata per qualche ragione ah e oh no no vai ce la fa ce la fa che non si arrabbiata ce la puoi fare senza che mi sguido conto è stato un po' arrabbiata sono indirono a ci sono inolo ok Non mi spiace Dai qua Riccardo, qua Riccardo, qua Vai che c'è un vero dell'acqua Questi video, vivo Ce l'abbiamo fatta Ti prego, fai sì che è finita Perché non posso, sennò non ho più munizione davvero per niente Dei sono i sottodidoli Ok Ok Ahah Too close Oh È completamente saltata in aria la villa Alla fine non c'era la Coca-Cola, no Triste So sad La stella moglie del proiettile zoomata Era fin troppo vicino quel proiettile Abbiamo finito Oh Bellissima paranza That must be the old mansion that Enrico was talking about What are you doing? I guess it's time to say goodbye Officially Lieutenant Billy Cohen is dead Yeah, I'm just a zombie now Credo che l'abbiano ucciso Tra l'altro Oh Ehi Fine Cioè, così Thank you Thank you Thumbs up Oh Oh Mmm Mmm Ho finito due giochi in una live Hai visto? Due giochi in una demo Non credo di aver mai fatto così tanto in una live prima d'ora E ora Non so che giocare Le mani di sentire dietro lì si butta giù dal dirubo Qui dice Io aspetta Rebecca Dobbiamo prendere la stessa strada Involontariamente Dobbiamo prendere la stessa strada Wow L'indepinto Ha stato di sangue Sconfiggio la sangue Gui su che reggiano In realtà Hunter O disponibile Wow Belli Non lo rifarò Salvo Andiamo sul 5 Si sa mai Si bustano le scritte da Squid Run Ma con Billy abbiamo finito non con Rebecca? E si Now Non ci credo che abbiamo Letteralmente Finito Anche questo Poi presto ovviamente si giocherà anche il primo Appena riesco a recuperarlo Si 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 gioca anche il primo 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 Di cui anche abbiamo fatto una remastered Ma è sempre a visuale dall'alto Quindi apposso così Allora Vediamo un po' Cosa possiamo fare In questa Più di mezz'ora Che ci manca Allora Che accorna Cosa Che accorna Allora Che accorna Allora Grazie a tutti